Grazie Presidente, io ringrazio il centro-destra perché riconosco appunto nella passione così come manifestata dalla consigliera Mennuni un sostegno ulteriore rispetto alla nostra determinazione per pervenire a una ulteriore implementazione dello strumento. Purtroppo oggi, come abbiamo ampiamente esaminato anche in Commissione, c'è un piccolo elemento tecnico che non consente all'Aula di poter determinare ora questo passaggio ma appunto io credo che sia fondamentale proprio grazie a questa passione così ovviamente manifestata dalla consigliera Mennuni ma che viene in ogni caso da quanto ho capito condivisa da tutti quanti i consiglieri di centro-destra io lo ritengo comunque un bel segno di forza da parte dell'Aula verso quello che stiamo comunque configurando come una direzione da parte di Roma Capitale per ottenere quanto più consenso possibile intorno allo strumento e arrivare a quel punto nelle ulteriori sedi istituzionali per rappresentare l'urgenza e quindi la necessità, la garanzia anche se vogliamo di realizzare tutte queste opere così come stiamo definendo nel corso dei prossimi dieci anni. Ripeto, però purtroppo questo elemento tecnico oggi non consente di fare questo passaggio come ho detto in Commissione e come purtroppo non è stato possibile variare rispetto all'emendamento perché erano dei corsi termini ci prendiamo la responsabilità di fare un passaggio e di ottenere tutti quegli approfondimenti tecnici per avallare la scelta comunque in tempo utile rispetto all'approvazione che ci sarà dopo il termine dell'avaluazione ambientale strategica. Grazie.